Ancora migranti alla deriva nel Mediterraneo dopo la tragedia di Cutro. La Guardia Costiera sta intervenendo in soccorso di circa 1300 persone su imbarcazioni che stanno cercando di raggiungere l'Italia. Tre motovedette stanno operando a circa 70 miglia sud di Crotone per prestare soccorso a un barcone con circa 500 migranti a bordo. Altre unità della Guardia Costiera stanno prestando soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800 migranti a bordo che si trovano invece a circa 1000 miglia da roccella ionica. I soccorsi risultano particolarmente complessi per il numero elevato di persone presenti a bordo delle imbarcazioni alla deriva. Intanto a Cutro è stata rinvenuta la 73esima vittima. È un bambino di circa 6 anni il cui corpo è stato trovato sulla battigia dove è stato trascinato dal mare. Nel suo secondo giorno di visita in Italia il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha incontrato a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Israele è un partner fondamentale in Medio Oriente e a livello globale, ha affermato Meloni dopo il colloquio con Netanyahu, che a sua volta ha ribadito l'amicizia di lunga durata con l'Italia e si è detto pronto ad ampliare la collaborazione con il nostro paese. Un impegno già annunciato dal primo ministro israeliano questa mattina al Forum Economico delle Imprese. Ci saranno ingenti investimenti nelle infrastrutture, ha detto Netanyahu. Vogliamo ampliare il settore del gas per aumentare i flussi verso l'Italia e da qui all'Europa. La Russia prosegue le indagini sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e punta il dito contro gli Stati Uniti. Per noi è chiaro che la responsabilità di questo palese atto terroristico senza precedenti è di Washington, ha dichiarato il vice ministro degli esteri russo. Intanto il presidente Zelensky ha ribadito in un'intervista alla CNN che non intende confrontarsi personalmente con l'omologo russo Putin. Non mantiene la parola, dice il presidente ucraino. Intanto, secondo il Financial Times, l'Ucraina ha ricevuto uno dei due sistemi di difesa aerea Patriot promessi da Stati Uniti e Germania, ma non è ancora operativo. Ad Hamburgo, in Germania, otto persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria. La carneficina è avvenuta all'interno di una chiesa di testimoni di Geova. A compiere la strage è stato un ex membro della stessa comunità che si è ucciso durante l'assalto. Tra i feriti è anche una donna incinta al settimo mese, sopravvissuta all'attacco. È morta invece la bimba che aveva in grembo. Le autorità di Hamburgo hanno dichiarato che non ci sono indicazioni che sia un atto di terrorismo. Xi Jinping è stato rieletto presidente della Repubblica Popolare Cinese. 70 anni da compiere il prossimo 15 giugno. Xi è stato votato all'unanimità dai delegati del Congresso Nazionale del Popolo, che gli hanno affidato un nuovo mandato di 5 anni. Con questa rielezione, Xi, che lo scorso ottobre era stato anche riconfermato alla guida del Partito Comunista Cinese, diventa il presidente della Cina più longevo dalla vittoria comunista del 1949. Papa Francesco non pensa alle dimissioni e lo ribadisce per l'ennesima volta, ma in un'intervista alla TV svizzera chiarisce anche che una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose, la mancanza di chiarezza, di saper valutare le situazioni, lo spingerebbe a darle. E anche un problema fisico può darsi per il pontefice. Quella del ginocchio è stata un'umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene.